Tre calciatori non musulmani che non bevono alcol. Il motivo del terzo è inaspettato. Innanzitutto cominciamo con Garrett Bale, la bestia di Cardiff, che non beve alcolici ed ha anche spiegato il motivo in un'intervista, dichiarando che lui non beve, non per motivi riguardanti la dieta, ma perché l'alcol non gli piace. Lo ha anche assaggiato in varie occasioni, ma non c'è nulla da fare. Non gli piace proprio quel saporaccio. Il secondo è Cristiano Ronaldo. CR7 inizialmente aveva ripudiato l'alcol per causa della perdita di suo padre, ma ora non beve per altri motivi, anche se ha ammesso di aver bevuto lo champagne alla finale degli europei. Solo che quello era un momento indimenticabile. Come dulcis in fondo abbiamo Declan Rice, che sorprendentemente, nonostante abbia 24 anni, non ha mai bevuto una birra in vita sua. Però una volta quando aveva 22 anni diceva, sai che c'è? Perché non provare una bella birretta? Stava per provarne una, solo che poi alla fine ha rinunciato. Perché non gli piaceva il suo odore e quindi alla fine non l'ha bevuta. Chissà come sarebbe finita se gli sarebbe piaciuto.